metà campo ancora un tiro per lui canestro lo doveva sbagliare, l'ha segnato abbiamo più due con due e trentasette da giocare la rimessa in zona d'attacco per la vittoria Libertas, linea regia si giocano questi ultimi tre secondi scarsi con i pesaresi in possesso di palla la rimessa di Petty Perry e qui per risolvere la situazione ci vorrebbe una tripla una tripla ci vuole adesso, è difficile adesso prendere posizione basterebbero anche due punti la tripla di incredibile la tripla di Turner all'ultimo secondo è una vittoria grande, grande tripla incredibile, incredibile pensavamo davvero di dover ancora una volta le carci, le gritte ma invece Turner ci ha tolto le castagne dal fuoco ha spento il fuoco ha spento l'incendio non so che cosa abbia combinato sta di fatto che ha vinto la partita incredibile Mimmo una gara stiamo festeggiando per una gara che alla fine forse non conterebbe neanche niente però l'importante è tenere acceso sempre la speranza certamente sì speranza speranza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti